Ciao, mi chiamo Patrizio Orecchioni, sono di Roma e sono nato e cresciuto a Roma. L'idea di fare l'attore è nata durante l'infanzia, guardando un film di fantascienza, Navigator, che da bambino in qualche modo mi ispirò. Poi quest'idea è maturata e è andata avanti fino all'età di 19 anni, quando finalmente decisi di intraprendere questo mestiere, con un percorso di recitazione che è iniziato in una scuola di teatro e che poi è proseguito professionalmente a Teatro Azione, che è la scuola dove mi sono diplomato, e con vari workshop. Ho lavorato principalmente e lavoro tuttora a teatro, anche grazie e spesso con la compagnia Versus, che è la compagnia con la quale collaboro, che è uscita anch'essa da Teatro Azione, e ho anche esperienze di doppiaggio e di corti cinematografici. Grazie.